Come sempre a nome della banda ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, hanno contribuito alla realizzazione di questo concerto e prima di iniziare vorrei invitare il sindaco di Portacomaro, Dall'Oraso, nonché il vicepresidente della comunità collinare Moffrato Valleversa, se vuole salutare il pubblico. Grazie, intanto dico subito che il collega sindaco Paolo Balvardo di Cagliano non si è crisiato, è arrivato alle 9.10 dall'esterno, si è assentato una mezz'oretta e mi ha detto di dare benvenuta a tutti e di abbracciarvi. Lui arriverà più tardi, si sta predisponendo per tutto quello che sarà necessario per la banda. Ora, come ha detto bene la signorina, questo concerto fa parte di un calendario dove sono scritti gli appuntamenti, sono stati organizzati nell'Unione Coronale Moffrato Valleversa e quindi nell'ambito di questi quattro paesi abbiamo ritenuto opportuno di valorizzare questo importante patrimonio culturale della musica. Quindi è stato creato questo appuntamento e naturalmente finirà il 7 settembre a Tonco. Ora porto i saluti ovviamente da parte del Presidente dell'Unione Collinare, Dottor Angel Marenco, che non c'è. Porto i saluti anche del Sindaco di Tonco, Giancarlo Gasorso. E naturalmente porto i saluti miei perché non potevo fare a meno di essere qui perché oltretutto abbiamo anche la nostra sempre più apprezzata e meravigliosa banda musicale di Porta Comaro. Buon divertimento e grazie. Grazie. Allora, bene, piccole canzoni.